Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con Dragon Ball Xenoverse 2, andiamo subito col proseguo della storia. Rieccoti, come puoi vedere si è aperto un'altra faglia temporale, andrò a fare rapporto a Kaioshin del tempo. Andresti alla camera del tempo appena puoi e ti raggiungerò dopo, vai alla camera del tempo, ok. E' vero, abbiamo trovato un'altra faglia temporale. E' vero, Fuse è up... Ma è vero, è vero che quando c'è un'altra faglia temporale, è Fuse... E' vero, chi potrebbe farlo? Fuse è il solo logico concluo. E' vorrei che che ti andiamo in la faglia temporale e scopi le cose. Normalmente, io mando tronchi in per dare supporto... Ma tronchi, ho bisogno di te stare qui e aiutare. E' vero. Ok, beh, devi andare a andare, e ricordi... E' vero, ancora non sappiamo per sicuro... E' vero, questo è Gogeta e Broly in questa linea, eh? D'altro, sono un'altra faglia di potenza. E' vero, potrei dire, tre di loro, certo? E' vero, perché Gogeta è in realtà Goku e Vegeta fusi. E' vero, in ogni modo, questo è bello! Ma non ho venuto qui solo per guardare loro un'altra faglia. All right, time to begin my little experiment. Huh? Hey, you, get the hell out of here! It's not safe! Sorry, Gogeta, but I'm gonna have to lock up some of your power, okay? Tag, you're it! Huh? What the... Okay, now let's see how changing this variable affects this timeline. Ooh, I can't wait! Ahahahah! Rinforzi per Gogeta blu, sconfiggi tutti i nemici. E devo stare attento a non far morire Gogeta... Gita, se no... Azz, broglia tutta sta energia! Uh, un alleato. Ah, le due Saiyan del Sesto Universo. Cerco di rompere la stamina, ma non gli si rompe. Ah, fanno la fusione ora. Buono, buono, buono. Vai, Kefla! E devo ritrasformarmi, ah. No, non è. E devo ritrasformarmi. Ho c'è anche un trucco. H-hah! Oh, non è. Ah! Ah! Oh, non è. Ah! Ah! Eh! 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 Ah, si è interrotta la fusione. Ah, meno male, dai. Allora non dovevo ucciderlo completamente, ma ridurre la sua vita fino a un certo punto. Mamma mia, mi ha fatto sudare sta missione. Andiamo avanti. Tajan, sconfiggi tutti i nemici. Vabbè, almeno non devo preoccuparmi della vita degli altri. Ah, sono solo io. Devo preoccuparmi di me, allora. Wow, questo è vero! Guarda quella potenza! X, ora sarò dura. E dopo che siamo così vicini a mettere il Dottor Broly's rampage. Devo trasformarmi. Allora, spero di sbagliare un'energia, ho finito messo anche dei suoi dati, anche. Ora, tutto ciò che ho bisogno è un sero. Mamma mia, ma per... Minnaggia. Maledetto Broly. Ah, un tostegno d'ora. Oh, fu. Beccati questo. Niente, a questo rompegli... La stamina è impossibile. Uh oh, no, non. Non vanno a segno, i cazzotti. Nuovo sostenitore, chi è? Jiren. Cosa c'è questo posto? Cosa c'è questo posto? Cosa c'è? 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 Cosa c'è?